Per il 25 gennaio in primo piano nel TGL News la cronaca, alcuni rumori provenienti dal salotto lo hanno insospettito e così dopo essere andato a controllare si è ritrovato faccia a faccia con dei ladri che hanno fatto ingresso nella sua abitazione e che non hanno esitato a colpirlo più volte al capo con una spranga di ferro lasciandolo ferito a terra. L'inquietante episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Ponte dell'Olio, lo sfortunato protagonista della vicenda è un uomo di 28 anni che si trovava in casa con i propri figli minorenni, stando alle informazioni raccolte i malviventi dopo aver sferrato i terribili colpi si sarebbero dati alla fuga. Sostiamoci nel cuore della città dove torna la ZTL lunga che dal primo febbraio riaprirà alle 19 come in passato, terminerà dunque la sperimentazione della giunta Barbieri che tuttora prevede lo spegnimento alle 18 delle telecamere di controllo ai varchi del centro storico. Fra i consiglieri comunali di maggioranza è sorto qualche mal di pancia sulla mancata proroga del libero accesso anticipato di 60 minuti alle auto senza pass, qualcuno infatti sperava addirittura che potesse tramutarsi in un provvedimento definitivo. Cambiamo argomento, è arrivata a 56.500 euro la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza a servizio dell'alta montagna piacentina, il mezzo obsoleto della Croce Rossa di Ottone che serve anche ai territori di Marsaglia e Zerba ha infatti compiuto 19 anni e non è più idoneo all'attività di soccorso. Gli appelli delle istituzioni in passato sono rimasti inascoltati, l'editoriale Libertà ha lanciato la raccolta fondi che in poche settimane ha quasi raggiunto l'obiettivo in base infatti al preventivo richiesto da Croce Rossa per l'acquisto dell'ambulanza, servono 61.500 euro, ne mancano solo 5.000 al raggiungimento finale dell'obiettivo. Finiamo con lo sport e con l'ultimo colpo di mercato in casa Piacenza Calcio, i biancorossi dopo l'addio di Romero passato al subtiro l'hanno ingaggiato Jacopo Murano attaccante 28enne ex SPAL, nuovi guai in vista invece per il proprio Piacenza Targato Pannella finito sotto la lente di ingrandimento dell'ispittorato del lavoro. Ieri alcuni funzionari si sono presentati nella sede di Via dell'Onge per compiere degli accertamenti che pare abbiano evidenziato la posizione irregolare di un collaboratore della società gestita dall'imprenditore romano, praticamente dietro l'angolo ormai la radiazione che con ogni probabilità sarà decretata nell'imminente Consiglio federale del 30 gennaio prossimo. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Buona mattinata a tutti. Grazie a tutti.